A te, buonasera a te Antonella e ai nostri telespettatori. L'avevo un po' annunciato nel collegamento del Tg delle 14 che volevo scegliere una location diversa, speciale rispetto a quelle abituali, perché la città di Pescara in questo caso ne offre come tante altre località dell'Abruzzo naturalmente. E qui siamo in cima al Colle del Telegrafo dove qualche anno fa è stato realizzato un bellissimo parco che in questi giorni è anche molto frequentato dalle persone perché insomma c'è distanziamento, c'è possibilità di distanziamento. Si vede tutta la città praticamente, si vede soprattutto il nostro mare con un colore, certo non è una bellissima serata, è nuvoloso, ma insomma il verde del mare, un po' un verde acqua appunto che può comunque offrire uno spettacolo degno per gli occhi. Anche se parliamo come sempre di cose assolutamente non così gradevoli perché il coronavirus è una bestia che è ancora fra noi e che determina ancora i casi positivi ogni giorno, anche se sembra che siano un po' in discesa. Intanto oggi come dicevi 238 i nuovi positivi in Abruzzo, l'età da 5 mesi a 93 anni, soprattutto la provincia dell'Aquila come ancora hai accennato 102 oggi i nuovi positivi nella provincia dell'Aquila, seguita dalla provincia di Chieti 77 e 10 casi a Pescara e 44 in provincia di Teramo. Sono stati eseguiti 4.281 tamponi molecolari e 1.658 test antigenici e purtroppo oggi sono 13 le persone decedute, ci sono però 201 guariti. Attualmente in Abruzzo sono positive 10.226 persone rispetto a ieri più 23, sono 557 i ricoverati in area medica, meno 14 rispetto a ieri e sono 67 le persone ricoverate in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. Infine 9.602 sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'Asl rispetto a ieri più 38. Il tasso di positività oggi sulla base della somma dei tamponi effettuati molecolari e test antigenici rapidi è del 4%. Questo è il dato stringato, d'altro oggi è sabato, sicuramente poi come sempre accade il sabato e la domenica si eseguono anche meno test, anche se oggi il numero per la verità è abbastanza significativo. Questo è tutto, Antonella hai qualcosa da chiedermi? Innanzitutto speriamo che quei colori di cui hai parlato possano portarci speranza. Sì, volevo chiederti Marina, a Pescara sono ripartiti gli screening, è ripartito lo screening per la popolazione studentesca, mi sembra di capire come d'altronde ci hai detto questa mattina. Esatto, infatti questa mattina siamo andati proprio nei locali della stazione di Porta Nuova dove già da tempo periodicamente vengono effettuati gli screening, oggi e domani dedicati tutti alla popolazione studentesca. Oggi era il turno delle scuole medie, sono stati tanti i ragazzi, i ragazzini e i ragazzi che sono andati a farsi il tampone molecolare anche per avere un po' un quadro dopo qualche giorno che la scuola è riniziata. Insomma anche è importante tenere monitorata la situazione. Domani ancora per le scuole medie sono circa 2000 gli studenti che effettueranno questo tampone o che perlomeno rientrano nella prenotazione. Il dato di stamattina, siamo fermi a quel dato, su 400 tamponi effettuati, un solo positivo. Vedremo poi naturalmente di aggiornarlo nelle ore successive e anche poi al termine della giornata di domani. Tutto si è svolto regolarmente, i ragazzi ormai sono anche abituati perché non è la prima volta che effettuano questo tipo di esame. Quindi sono assolutamente consapevoli anche dell'importanza che ha tenersi controllati perché poi quando si rientra in comunità, come la comunità scolastica, è assolutamente importante sapere e isolare prontamente un eventuale positivo. Grazie a tutti.